In Libano adesso dove le forze Unifil hanno trovato, hanno scoperto nel sud del paese una grande quantità di esplosivo. Ne parliamo in diretta con il colonnello Diego Fulco che è il portavoce militare di questa missione. Ben trovato? Buonasera, buonasera a tutti gli spettatori. Dunque le forze di sicurezza hanno già messo l'area sotto sequestro e sequestrato anche questo tipo di esplosivo. Si tratta però di un fatto particolarmente grave perché va a violare alcuni accordi. Sì, sicuramente il ritrovamento di esplosivo detenuto senza alcuna autorizzazione rappresenta una violazione, una chiara violazione della risoluzione 1701 che ha posto fine alle ostilità tra Israele e il Libano, in particolare per il gruppo armato di Esbollah nel 2006. Coronnello avete notizia su quelle persone che sono state notate nei pressi di quest'area dove poi si è trovato l'esplosivo? Avete fermato qualcuno? Avete notizia in merito? Guardi, in questo momento noi stiamo supportando le forze armate libanesi che sono le principali responsabili della sicurezza e della legalità in tutto il Libano. In questo momento stiamo effettuando delle indagini, stiamo effettuando delle ricerche e naturalmente non sarà facilissimo, però stiamo già lavorando, siamo già all'opera in collaborazione con le forze armate libanesi. Voi avete parlato di una grande quantità, quanto grande, quanto esplosivo avete trovato e di che tipo? Guardi, esattamente il tipo di esplosivo non è stato ancora definito. Si tratta sicuramente di esplosivo, questo è stato il primo rapporto che hanno dato i nostri esperti di esplosivi. Bisognerà attendere il termine delle indagini per definire esattamente che tipo e in che quantità di ogni tipo di esplosivo è stato rinvenuto. Grazie, dunque seguiremo l'evoluzione di queste indagini insieme a voi. Grazie al colonnello Diego Fulco, il portavoce militare della missione Unifil in Libano. Grazie a tutti.